Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Il traffico al momento regolare su strade e autostrade della Toscana. Possibili disagi in A11 per materiali dispersi tra BV11 raccordo Luca Viareggio e BV12 raccordo A12 Genova Rosignano per chi viaggia verso Pisa. Segnaliamo inoltre la presenza di personale su strada tra Firenze, Firenze vedute all'Indiano e Fipili per chi viaggia in direzione Livorno. Sempre in Fipili per lavori di ripristino della pavimentazione stradale, segnaliamo questa notte la chiusura della carreggiata tra Cascina e il bivio Firenze-Livorno verso Firenze in orario 22.6. Ci vogliamo salutarci per il traffico aereo e il volo Firenze-Roma delle 11.40, quest'oggi è cancellato. Oversine Toscana Info è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio. Grazie a tutti.